Ciao! Perché non realizzare una torta di Spider-Man? Una bellissima torta scenografica per i nostri bambini. Ma non solo! Innanzitutto realizziamo la nostra ragnatela con un filo di lana. Basta nodare il filo a spirale. Dopodiché blocchiamo tutto quanto con della colla vinilica. E l'assembliamo sulla nostra torta scenografica con degli spigli. Questa torta l'abbiamo realizzata con due discripoli, stirolo, carta pestate e glitterati. Ti ricordiamo che ci trovi su Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest e TikTok. Iscriviti ai nostri canali!